Il meteo è offerto da Officina e concessionaria Euromoto Il Tuareg Tour Operator, tutto un altro mondo da godere Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al meteo di Firouge TV Vediamo le previsioni di giovedì 22 ottobre Un campo di alte pressioni abbraccia tutta la regione Garantendo tempo stabile da solato ovunque Nello specifico sui litorali, sull'Appennino e zone interne Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata Venti molto deboli in attenuazione In rotazione ai quadranti sud-occidentali Ma rimossi Vediamo le temperature Palermo 17,22 Trapani 15,21 Agrigento 14,22 Enna 9,20 Caltanissetta 14,22 Ragusa 11,21 Siracusa 14,21 Catania 17,22 Messina 16,22 Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie a tutti Grazie a tutti